Ciao ragazzi, è Casio di Wester e oggi siamo su un video strano sì, perché fino adesso ho portato solo parodie però, raga, il format del canale è sempre basato sui videogiochi quindi riportiamo un'altra volta i videogiochi però ci saranno sempre delle parodie che si fanno schifo ci vuole ok ragazzi, oggi siamo qui su un video molto bello che si tratta che come vedete ora noi stiamo avviando la stagione con Gigi Buffon che praticamente dobbiamo sapere cosa succede se un giocatore nella carriera giocatore si ritira ecco che praticamente no io sono andato avanti nelle modifiche cioè nel calendario come state vedendo ho messo la data massima cioè quindi ottobre cioè ottobre 2017 primo ottobre 2017 e praticamente l'ho lasciato ora in questo video vedete che è tutto velocizzato però è durato più di 4 minuti che all'improvviso praticamente si è fermato c'è una roba particolare che si è fermato è uscita una schermata dove sta scritto prosegui per... no, ritirati come giocatore appena ci trichiamo sopra praticamente ci uscirà una schermata delle nuove offerte che ci farà andare in qualsiasi squadra cioè io come giocatore divento allenatore di una squadra e quindi ora io scelgo il Benevento perché è una squadra vicino a me questa città io ho scelto il Benevento e non so se porterò una carriera allenatore su quel Benevento per farla arrivare in calcio a serie A vabbè questo mito mito poi questo cosa succede cosa succede se può finire qua se vi piace questa serie di che cosa succede basta che me lo dite giù nei commenti nella descrizione troverete il link della mia pagina Facebook il mio nome Instagram Snapchat e... nient'altro troverete anche il link della mia crew e quindi raga non so nemmeno che cazzo dire ci vediamo bello ciao 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 ciao